Allora, a distanza di qualche giorno, volete comunque dire la vostra su ciò che è avvenuto, quindi insomma riprendiamo da lì il discorso. Perfetto, allora, i fatti sono questi, insomma, cerchiamo brevemente di metterli in fila. Sabato sera c'è stata all'interno di una della seconda giornata del Festival di Teoria Indipendente, qui allo Spazio Grizzly c'è stata, diciamo così, un'incursione da parte delle forze dell'ordine in forze, sono venute diverse pattuglie e diversi corpi delle forze dell'ordine, quindi guardia di finanza, carabinieri e polizia e in as. Chiaramente un dispiegamento di forze dell'ordine assolutamente sproporzionato e spropositato, visto che hanno bloccato anche la strada su entrambi i lati. Senza scendere troppo, come dire, nella dinamica dei fatti, perché sarebbe anche noioso, qui c'erano più di 100 persone a cui in maniera molto arbitraria e arrogante sono iniziati a chiedere, i documenti, più o meno a tutti, quindi gente che, comunque questo all'esterno del Grizzly è uno spazio pubblico in cui la gente ha diritto di aggregarsi, non vediamo perché bisogna chiedergli documenti. Sta di fatto che alla fine un ispettore del NAS è stato accompagnato da noi dentro lo spazio, perché, come ci ha detto lui, lui era stato chiamato per verificare la presenza di strutture che facessero pensare a un'attività commerciale. Il verbale che ci ha fatto e tutti i controlli, l'ispezione che ha fatto, è stato più di mezz'ora dentro, ha dato esito totalmente negativo, non è stata trovata nessun tipo di struttura che potesse essere ricondotto appunto a attività commerciali. Quindi questa è un po' la dinamica dei fatti. Quello che teniamo a sottolineare noi, prima cosa è questo, cioè questo non è un'attività a scopo di lucro. Loro ci hanno detto che sono stati chiamati perché tutto quello che organizziamo, un festival di editoria compreso, è un'attività commerciale camuffata. Noi lo vogliamo ribadire a tutti, questa non è un'attività commerciale. Noi facciamo, nessuno prende guadagna dalle attività che vengono fatte qua dentro. Tutto quello che in maniera autogestita, in attività auto-organizzate, i nostri finanziamenti li riceviamo da persone che vengono qua in maniera libera e volontaria, danno dei contributi perché credono che sia un progetto che abbia importanza e dignità. Finito qua. Noi non facciamo concorrenza a nessun esercizio commerciale, assolutamente, tant'è che molte persone che girano lo spazio hanno esercizi commerciali, chi ristoranti, chi bar, chi altro, e si rendono perfettamente conto che questa cosa non esiste. Questa cosa di metterci contro, diciamo così, il mondo dei commercianti è chiaramente funzionale ad altro. Ma se qualcuno che ha attività commerciali venisse qua, come tanti lo fanno, lo hanno fatto appunto perché volevano capire meglio, hanno visto che questa cosa non esiste, è una cosa senza fondamento. Ecco, tornando ai fatti di saluto, giusto per avere la possibilità di dire la vostra, è vero che avete impedito alle forze dell'ordine di entrare? No, noi abbiamo, loro si sono presentate in massa volendo entrare immediatamente nello spazio e chiedendo i documenti. È chiaro che è uno spazio in occupazione questo. Noi siamo stati, non abbiamo fatto entrare le forze dell'ordine, ma l'ispettore dei NAS, perché con l'ispettore dei NAS non abbiamo avuto nessun problema, ci ha mostrato e ci ha parlato quello che voleva. Il resto era un'irruzione che sembrava uno sgombero vero e proprio, quindi chiaramente noi difendiamo questi spazi e non ce li facciamo portare via, sicuramente durante una serata in cui era presente centinaia di persone. Ed è importante sottolineare che oltre alla nostra reazione è stata la reazione dei presenti, che in qualche modo ha frenato molto questa dinamica molto irruente, molto prepotente delle forze dell'ordine, perché era una cosa sotto gli occhi di tutti spropositata. È chiaro che se tu vieni qua, ti presenti, vuoi entrare, vuoi sfondare la porta in maniera assolutamente così, è chiaro che noi questa cosa non la permettiamo. Questo spazio l'abbiamo valorizzato, lo difendiamo, questo è tutto. Mi sembra una dinamica molto semplice. Come pensate di risolvere il fatto che comunque voi per vostra missione occupate uno spazio del demanio senza nessun titolo per farlo? Come pensate di risolvere questa cosa? Allora, su queste cose due cose molto brevi, perché credo che siano collegate soprattutto alla cosa di sabato. Allora, noi abbiamo sempre dimostrato la nostra disponibilità a sedersi a un tavolo e trovare una soluzione. Chiaramente deve essere una soluzione condivisa in cui ci sono due interlocutori e bisogna essere in due per voler fare le cose. Quindi noi l'abbiamo sempre ribadita pubblicamente anche altre volte. Quindi più di questo, come dire, non sappiamo cosa dire. È chiaro che se da nostra parte c'è la volontà bisogna che ci sia anche da altre parti. Quindi questo è chiaro. L'occupazione per noi è una pratica, non è un fine. Noi l'abbiamo fatto perché questo è uno dei tanti spazi abbandonati in città, pubblici, quindi di tutti, che noi abbiamo restituito al quartiere, alla città, con la nostra modalità dell'occupazione, che però non è un feticcio, un fine in sé. L'abbiamo fatto perché non c'erano altre alternative e perché riteniamo che è servita a sollevare un problema. E quindi adesso noi abbiamo tutte le volontà per farlo. Bisogna che qualcuno, come dire, abbia le stesse volontà. Su questo però riteniamo, ed è un fatto molto importante che abbiamo scritto nel nostro comunicato, che la cosa, diciamo così, quello che è successo sabato, e tra l'altro se l'è fatto scappare anche un carabiniere durante una discussione, quindi chiaramente vale per quel che vale, però, Questa cosa qui, questo intervento così in Ford, da una parte mira sicuramente a impaurire anche le persone che frequentano lo spazio, perché blocchi la strada, arrivi in sette o otto macchie dei carabinieri, come dire, sembra un'operazione antimafia, e tutta la gente che passa e vede questa cosa l'ha capita. C'è chi si è fermato a chiedere, c'è chi, impaurito, è attirato dritto. Ma questo sono molto più le persone che ci hanno chiesto cosa stesse accadendo. D'altra parte, questo tipo di cosa qua era mirata proprio a, come dire, togliere il terreno sottipiedi a noi, per far sì che metterle l'amministrazione comunale all'angolo, perché è vero che è del demanio, ma la giunta comunale ha già votato all'unanimità il passaggio a titolo, come dire, gratuito di tutta la struttura e del parco al comune, e tra poco passerà nelle sue competenze. Quindi l'intervento di sabato è stato finalizzato a rompere ogni tipo di terreno, per cui mettere il comune all'angolo e dire, voi non potete, come dire, mettervi al tavolo con quelle persone lì, sono illegali, sono un'attività commerciale, non fanno politica, come dicono, ma in realtà quello è una cosa di cui bisogna che se ne occupi solamente le forze dell'ordine. Questo è chiaramente un'operazione politica, non certo di controllo, perché se uno voleva fare un'operazione di controllo venivano con altri mezzi e con altre forze. E questo, quello che ci ha fatto anche molto riflettere in maniera positiva, è che tutte le persone presenti in quella serie, e quelle con cui abbiamo parlato in questi giorni, questa cosa sottolineavano qua. Sottolineavano il fatto che tutti riuscivano benissimo a comprendere la dinamica che questa è un'operazione squisitamente politica, per rompere queste basi. Detto questo, noi non prendiamo nessuno, noi siamo altra cosa dei partiti politici e di questo, come dire, ne facciamo un vanto, delle nostre pratiche, delle nostre lotte. Però è chiaro che questa cosa tende a, per giochi, come dire, tra partiti politici, opposizione e comune, usando strumentalmente noi, tende a rompere quel terreno per cui in futuro sarà possibile, noi ce l'auguriamo, ma come detto prima, ci deve essere la volontà di entrambe le parti di sedersi a un tavolo e trovare una situazione non conflittuale. Detto questo, volevo dire un'ultima cosa, se ho tempo, rispetto alla, brevissima, rispetto all'opposizione che tutta si è schierata, dentro questa opposizione ci sono anche i 5 Stelle, come chiaramente, e noi ci fa sorridere, perché da una parte, come dire, soprattutto nelle battaglie ambientali, anche nello stesso territorio di Fano, rispetto ai trivellazioni, abbiamo incontrato attivisti o gente che ha votato i 5 Stelle che non si fa nessun problema a venire nei posti occupati perché non guarda la forma di quello che è, ma pensa molto più alla sostanza. Cioè, la sostanza è la battaglia per la giustizia ambientale, per la democrazia, difesa dei beni comuni. La forma è che questo posto è occupato, questo non li ha mai frenati e non gli sono manco mai posti a domanda se andare o meno. Questo succede a Fano, ma succede in tutte le marche, nelle battaglie per la democrazia, i beni comuni, ma anche in tutta Italia. Ci sembra strano che i 5 Stelle non colgano mai, cioè colgano sempre l'occasione per attaccarci compatta con la minoranza, cioè con tutta la destra che lo fa, chiaramente per motivi ideologici, però ci sembra anche strano che loro in qualche modo si reputano il nuovo che avanza, quello che non ha a che fare con la vecchia politica quando poi si alleano e fanno battaglie strumentali contro il comune usando noi, metodi proprio da vecchia politica, con chi ha governato la città negli ultimi dieci anni. La stessa, i governanti che hanno lasciato questo spazio compreso, come tanti altri, all'abbandono più assoluto. Degli spazi pubblici dovrebbe occuparsi teoricamente chi governa la città. Quindi questa cosa noi abbiamo ricevuto molta solidarietà dagli attivisti 5 Stelle perché questa cosa denota il fatto che si bada molto più a una legalità assolutamente vuota, formale, non reale, molto meno che invece alla giustizia sociale che poi sono i contenuti che riempono le leggi e i diritti che uno prova a costruire.